Io chiamo Rete Veneta. Continuano ad arrivare da parte dei nostri telespettatori a Vicenza Chiocciola, a reteveneta.it, la casella di posta elettronica della nostra redazione, segnalazioni di cose che non vanno in città, che hanno bisogno di una soluzione o anche solo per denunciare l'inciviltà di chi danneggia un bene comune. E noi, come nostra abitudine, vi diamo spazio e vi invitiamo a continuare a inviarcele. Inciviltà è quest'ultimo il caso, documentatoci con tanto di foto da un cittadino e riguarda la scuola di Via Prati. Scuola precisa, nella mail, il telespettatore è recentemente restaurata e sistemata esternamente a spesa dei cittadini. Le foto che ci ha inviato e che ci mostrano parlano di muri imbrattati e presi appallonate, grondaglie danneggiate e divelte, per non parlare della struttura del cappotto, molto costosa e in alcuni punti strappata. Atti di vandalismo assurdi li bolla così il nostro telespettatore. Noi aggiungiamo che sono azioni di inciviltà di un preoccupante e scarso interesse della cosa pubblica, che costringono l'amministrazione di intervenire e a spendere ulteriori soldi per rimettere a posto e che magari avrebbe potuto investire in altro modo. Il nostro telespettatore chiede misure esemplari e si chiede dove siano i vigili in questi casi. Domanda che Rete Veneta, come ha sempre fatto, si prende in carico e girerà a chi di dovere.